L'accordo raggiunto tra Palazzo Marino e Confcommercio sulla convenzione per area C e Sosta nei parcheggi del centro non convince i garagisti. 13 euro il costo del ticket d'ingresso nella cerchia dei bastioni più 4 ore di parcheggio in un autosilo del centro secondo la bozza del comune. Una misura che non servirà a risolvere il problema sostengono i garagisti del centro perché solo una minima parte della clientela, quella che si ferma almeno 4 ore, come ci ha spiegato Stefano Martarelli, proprietario del parcheggio di Via Riberto 4 a Milano. Il problema è che si limita a quei clienti che sosterebbero le autorimesse dalle 4 ore in poi. Direi che generalmente su tutti i parcheggi in Milano, soprattutto quelli vicini agli ospedali o al tribunale, chi sosta 4 ore rappresenta veramente un'inezia. Sono moltissime le autorimesse che hanno visto una riduzione considerevole degli affari dopo l'introduzione del ticket d'ingresso. Martarelli ad esempio, oltre agli automobilisti che si fermavano per meno di 2 ore e che ora preferiscono parcheggiare sul confine di area C e evitando così di pagare il ticket, ha perso una quarantina di abbonamenti da 200 euro al mese. Moltiplicandoli su base annua è una perdita secca da circa 100.000 euro che potrebbe costringere il proprietario a lasciare a casa qualcuno tra gli otto dipendenti. Dal 16 gennaio come sono cambiati gli affari? Gli affari sono cambiati in modo seriamente negativo. Noi stiamo perdendo circa, per quanto riguarda i passaggi, il 65%.